In pista vuole sempre primeggiare anche se non è più alla guida di una monoposto di Formula 1 e si cimenta con un piccolo kart. Il pluricampione del mondo Michael Schumacher, ex pilota della Ferrari sul circuito di Sarno, per le prove libere delle World Series di karting si è distinto per la velocità ed ha confidato che oggi il kart è la sua passione più grande. Karting è una buona scuola per la futura, ci sono tanti ragazzi che vanno molto molto forti, devi vedere c'è cento in giugno, 80 in senior, dopo qualificare penso tutti sono in quasi un secondo, tutto cento. E' così, i primi 20 ogni volta sono in quasi un decimo, due decimi, è molto molto forte, non difficile ma molto forte, molto competitivo e questa karting è una buona scuola. Con lui è sceso in pista anche un altro campione Ferrari ovvero Jeanne Alessi ed anche per il francese applausi ed autografi, oltre alla giovane promessa spagnola del Circus di Formula 1, Jeme Alguer Surari. Il più giovane pilota ad aver esordito su un circuito di Formula 1, quattro anni fa con la Toro Rosso a soli 19 anni. Il tedesco è tornato a Sarno esattamente dopo dieci anni, era il 2003 quando sempre richiamato dalla passione per i kart, arrivò in provincia di Salerno per una sessione privata e all'epoca era ancora un pilota della Ferrari.